C'è un'intera città e forse anche qualcosa di più che si è letteralmente fermata davanti a un evento in grado di superare i confini dello sport. Udinese contro Ajax, come dire i 101 anni di storia della società bianconera illuminati dalle gesta di Selmosson e di Zico contro i 97 del club di Amsterdam che ha conquistato qualcosa come 11 successi internazionali e 38 nazionali. L'atmosfera formidabile dello stadio Friuli ci fa capire al volo quanto è stata attesa questa grande partita e per entrare subito nel clima della festa cedo la linea a bordo campo a Giovanni Marzini. Buonasera da Udine, buonasera agli sportivi del Friuli Venezia Giulia che seguono in diretta su Rai 1 questa partita. Dicevi grande atmosfera, abbiamo visto le 30.000 bandiere sventolare sugli spalti del Friuli. In questo istante le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnate dal boato che è stato per sentire, grande atmosfera, grande impresa che deve compiere l'Udinese se vuole restare in Europa ribaltare l'1-0 di Amsterdam. Poco fa Zaccheroni c'è detto fiducioso, convinto che i suoi faranno una grande partita. A te Carlo. Sono le immagini della squadra esterna 2 di Trieste con la regia di Anna Cristina Giustiniani vi leggo i due spieramenti a partire dall'Ajax. Volantesi con in porta Van de Sarra. In difesa Tobiasen, Blind, Olisee, Frank De Boer. A centrocampo Ronald De Boer, Littmannen e Wicke. In attacco Dani, Arvelazze e Ökstra. Quella che vedete in sovraimpressione è la formazione olandese Ajax nella tradizionalissima e storica divisa bianco-rossa. E adesso l'Udinese che presenta in porta Turci. In difesa Bertotto, Calori e Pierini. A centrocampo Elweg, Giannichetta, Valem e Cappioli. In attacco Poggi, Pirov e Amoroso. Anche in questo caso, in sovraimpressione, i nomi, i numeri dei giocatori dell'Udinese che ci auguriamo veramente questa sera possano legare appunto il loro nome ad una grandissima impresa. Il direttore di gara di questo incontro è un inglese. Si tratta di Paul Dorkin, 42 anni, eccolo inquadrato, che ha avuto modo per quanto riguarda le coppe europee di dirigere Inter Boavista. Vittoria dell'Inter per 5 a 1. E speriamo porti buono ad un'altra formazione italiana. L'impianto di gioco, l'abbiamo detto all'inizio, lo ricordava Marzini, questo fantastico stadio Friuli, esaurito da settimane con i suoi 40.000 spettatori. All'ultimo momento sono stati messi in vendita 1.200 biglietti restituiti dai tifosi olandesi ed è stata veramente una caccia al biglietto, con code addirittura dalle 5.30, 6 del mattino. Vi ricordo subito il criterio di qualificazione per quanto riguarda questo turno. L'Udinese supera il turno e quindi accederebbe al terzo di Coppa UEFA vincendo con due gol di scarto, mentre invece con la vittoria 1-0 si va ai supplementari ed eventuali calci di rigore. L'Ajax invece supera il turno se vince, se pareggia, se perde con un gol di scarto, ma segnandone almeno uno, quindi 1-2, 2-3 e via di questo passo. Sole centrale Blind, che non è così alto di statura, che è stagionato con i suoi 36 anni e non adatto a marcare un grande saltatore come il tedesco. Questo calcio di punizione dopo un minuto e mezzo del primo tempo. 0-0 dopo l'1-0 per l'Ajax della gara di andata. La corta rincorsa è di Valemma. La sua battuta d'affetto è la panata, pressoché centrale di Van der Sar. Il processo di palla agli ulandesi, ma la trama è spezzata dall'Udinese. La partenza di Amoroso. Da un'occhiata ai compagni, Poggi. Amoroso. E siamo a tre quarti di campo. Biroff, il tiro! E il pallone deviato! Il pallone deviato in calcio d'angolo poteva essere un autogol. Comunque pericolo che rivediamo. Molto buona la rifinitura di Amoroso. Il tiro di Biroff e la deviazione nel calcio d'angolo da parte del numero 15, Elisè. Forza Udinese, dunque, ripetiamo, non ci sono complessi. Bisogna soltanto scrollarsi di dosso. L'emozione, il tremore dei primi minuti, come dicevamo anche con Marzini. La battuta di Valemma. L'uscita dell'altissimo Van de Sarra. Poi l'inseguimento di Cappioli. Poi Biroff, fermato da Blind. Riesce a recuperare molto bene il pallone. A lanciare Poggi. Approfittato di un scivolone di Fran de Bourre. Poggi. Poggi contro Lisè in area. Il cross. Ci prova ancora di testa. E non riesce all'inserimento l'aggancio di Elweg. L'attacco. L'Udinese riconquista il pallone. Altissimo nella zona di Biroff. Lo lascia scorrere in qualche modo per Poggi. Si gira. Biroff. Biroff. Ha cercato il pallonetto. Un po' come era successo domenica su Rampula. Ma è in situazioni diverse. Molto più vicino alla porta. E se le calate la difesa. Veramente un brivida. Ed è stato proprio Biroff a toccare per primo il pallone. Grandissima parata purtroppo per noi di Van de Sar. Mi sembra proprio che l'Udinese va all'avimento davanti alla panchina. O meglio lungo la linea dell'auto per quanto riguarda la panchina dell'Ajax. Un clamoroso errore da parte della difesa dell'Ajax. E la rete di Poggi. Avevamo sottolineato in precedenza come dopo i primi errori di passaggio dei giocatori di l'Udinese. C'erano stati parecchi errori di disimpegno anche dei giocatori dell'Ajax. Ed è avvenuto proprio questo. Con Olisè. Guardate Olisè. Passaggio completamente sbagliato. Ne approfitta Poggi. E c'è il gol. Rete fondamentale. In questo momento si andrebbe ai supplementari. Siamo al 26esimo. Linea Marzini. Una notazione Carlo. Proprio in questo stadio un altro olandese. Bogard aveva fatto una cosa del genere. E Capello aveva dichiarato la solita mania degli olandesi di giocare col portiere. Stavolta c'è cascato un altro giocatore di scuola olandese. E anche questa volta contro il Milan era stato Birov. Poggi non ha perdonato. E' un gol. Inutile sottolinearlo. Guardando il primo tempo di Amsterdam. Birov di testa. Molto bene Poggi. Fa viaggiare Elveg. Splendidazione. Elveg entra in aria. In mezzo. Birov. Eccolo qua. Eccolo qua. Fantastico gol. Splendidazione. Fantastico gol di Oliver Birov. Birov al 33esimo. Formidabile. Udinese 2. Ajax 0. E non poteva andare meglio questo primo tempo. Marzini raccontaci quello che sta succedendo a Tel Aviv. Tutta la panchina friulana esplosa. E meno male che avevamo sottolineato la condizione non ottimale di Elveg. Avete visto la progressione e soprattutto l'intelligenza nel mettere il cross un paio di metri indietro rispetto alla linea difensiva dell'Ajax. Ha visto con la corda dell'occhio arrivare Birov che ha trovato all'incrocio dei pali il pivot olandese. Il portiere non ha potuto farci nulla. E batte fortissimo il cuore di Udinese. 25 secondi del primo tempo. Dani. Fermato ancora. Azione di rimessa. Poggi. Ha superato Blind. E stavolta non è fuori gioco. Attenzione, attenzione, Cappioli, Cappioli in area e il tiro ed è fuori. E si è mangiato l'occasione. Vedete la sua disperazione del 3-0 Cappioli. E forse probabilmente ha avuto paura, paura di sbagliare. Quella che poi ti frega proprio al momento della verità. Ha tirato, avete visto. Ha cercato come chiunque avrebbe fatto l'altro angolo. ma la direzione non era quella giusta. Il doppio di marcatura ne approfitta Birov. Amoroso, la sua velocità. Difesa dell'Ajax che se è attaccata va in crisi. Ancora la freccia. Elweg. Va giù in area. E vediamo quello che decide l'arbitro. Niente da fare. Simulazione. Cartellino giallo per Elweg. Siamo curiosi di rivedere l'episodio. In effetti non è sembrato un fallo da rigore. Comunque rivediamo. Elweg è stato toccato ma non sappiamo fino a che punto spinto. Come i centravanti Arvelazzo. Intanto è finito il primo tempo e ricordiamo il punteggio. Udinese 2-Ajax 0. Leriti 26esimo Poggi. 33esimo Birov. E per il momento è tutto dallo stadio Friuli di Udina. Per l'inizio della ripresa di Udinese Ajax. Subito con Amoroso davanti. E vedete immediatamente una sua percussione pericolosissima. E questo vi dice lo spirito con il quale l'Udinese è tornata in campo assolutamente non intimidita. Vedete il sorriso di Amoroso con l'aggressività. La determinazione giusta per affrontare nel modo migliore anche il secondo tempo. Ti posso assicurare Carlo che questo è uno schema. Più volte ad inizio ripresa la formazione friulana riesce sempre a mettere un giocatore in condizioni propizie per andare in gol. E questo è importante naturalmente detto da un collega che segue proprio abitualmente l'Udinese sui tre fronti. Non soltanto in Coppa UEFA ma anche in campionato e in Coppa Italia. E ci godiamo questo calcio di punizione dopo appena un minuto della ripresa. Attorno al pallone ci sono Cappioli, Valemme, Amoroso. Vicino alla barriera Birov. Il tiro di Cappioli è la grandissima parata di Van de Sar. Sfortunatissimo Cappioli. Sfortunato per il gol mangiato nel primo tempo. Splendida è stato questo calcio di punizione. E guardate che razza di parata ha compiuto Van de Sar. Ancora splendida l'Udinese in avvio di ripresa. Auguriamoci veramente che Durri fino in fondo. Il corner, la battuta di Valemme. Manca di un soffio la deviazione di Birov. Cappioli ancora, Amoroso, si gira. Turbion, spettacolo, Calori, tiro, parata di Van de Sar. Giustamente mantiene la calma Zaccheroni. Alberto Zaccheroni, il tecnico di Forlì di 44 anni che ha avuto il merito di portare e di pilotare per la prima volta in Europa la sua Udini. Tobiasen. Epidinato da Cappioli. La deviazione della schiena di Pierini. E poi l'intervento ancora della difesa con Calori. Amoroso. Profondità. Birov è completamente libero. Poggi. Birov. Cerca di guardarlo, di servirlo. E tira ad effetto il pallone fuori. Prima intenzione era quella di servire Poggi. Poi la nuova sorpresa poteva essere il tiro direttamente in porta. A te la linea ancora Marzini. E il discorso che facevamo prima. Birov ha subito guardato il compagno. Poi vedete ha visto la linea chiusa anche per il ripiegamento della difesa olandese. Ha cercato questo interno destro a chiudere. Che è andato invece troppo alto. Eleganza. Profondità per Birov. Lascia rimbalzare il pallone. Davanti per Amoroso. Due contro uno, almeno per qualche attimo. Amoroso punta l'uomo. In mezzo il tiro! Fantastico tiro e fantastica parata di Van de Sarra. Che partita gentili telespettatori. Una partita veramente tutta da seguire con l'udinese. Che vedete in spazi larghi. approfitta naturalmente della libertà concessa dei difensori e continua a sfiorare il gol. Grande udinese. Grande sul piano tattico. E' peccato soltanto che non arrivi questo benedetto, maledetto terzo gol che chiuderebbe del tutto la partita. Dalla bandierina Valemma. Ancora rientrare. Un colpo di testa. Il pallone fuori. Il tentativo di Birov e ne approfitto per ricordare i diffidati che sono Calori, Pierini, Valem, Giannichedda, Cappioli e Amoroso. Sono stati ammoniti. E' quello di rinforzare proprio la linea davanti ai tre difensori. Anche perché Valem accusava indubbiamente, oltre che problemi di stanchezza, anche un certo qual gap fisico nei confronti dei giocatori dell'Ajax. Sicuramente più dotati fisicamente. Ma ecco Locatelli. E' pronto ad entrare Locatelli. Spazio dunque per uno dei giocatori più in forma dell'Udinese. E l'abbiamo riscontrato anche a Torino nella partita contro la Juventus. Spazio per Thomas Locatelli che per il momento in questa stagione ha segnato quattro gol. Due in campionato, l'ultimo contro la Juventus. Uno in Coppa Italia e uno in Coppa UEFA. Olisè, attaccato subito da Birov. Uscirà Poggi. E' chiaro che sicuramente sarebbe stato sacrificato uno dei due attaccanti esterni. Oh Poggi, oh Moroso che come detto hanno corso veramente i mani. Ma è prontissima anche l'Udinese con Locatelli. Ruba palla, Locatelli. Ferma pallone, va giù. Va giù Locatelli e non è scuso che gli sia stato spostato il piede d'appoggio. Vediamo la decisione dell'arbitro. Vedete Locatelli copre il pallone. E poi c'è questo intervento dell'avversario. Non c'è stato uno spostamento del piede d'appoggio. C'è stato probabilmente un Locatelli leggermente strattonato. E non c'è massima punizione. In effetti devo dire, può darsi che l'arbitro abbia avuto ragione. E' andato giù, diciamo sbilanciato un po' da solo nella corsa a Locatelli. Ma la prima impressione era stata quella del calcio di rigore. Ancora corner. Cappioli. Il topo di testa che è stato effettuato da Pierini. Poi Gargo al volo. Bravissimo. Bravissimo Gargo. Crea delle voragini, soprattutto esterne, nella retroguardia di Zaccheroni. Come questa. E' un problema purtroppo che resta irrisolto. Guardate Arvelazze. Arvelazze. Il tiro e il gol. E' arrivato il gol. Era nell'aria purtroppo. E' arrivato il gol di Arvelazze. Alla 35esimo minuto del secondo tempo. In questo momento purtroppo l'Ajax è qualificata per il turno successivo di Coppa UEFA. E le cose cambierebbero soltanto se l'Udinese riuscisse a segnare un terzo gol. Abbiamo rivisto purtroppo più volte l'episodio. E dicevamo proprio. I difensori centrali dell'Udinese si presidiavano bene gli spazi davanti a Turci. Ma fatalmente lasciavano delle voragini aperte sulle fasce laterali nelle quali si proiettavano i vari danni, i vari Arvelazze. E non a caso ha segnato proprio uno di questi, Arvelazze. Sentiamo cosa succede in panchina. A te la linea Giovanni Marzini. Ecco, entra Geno per Cappioli. Prima di questo cambio, prima di questo gol, il tempo sembrava non passare mai. Adesso sembra correre in fretta perché ci sono veramente poco più di dieci minuti a disposizione per l'Udinese. Anche qui naturalmente preghiamo nuovamente Gargo, Poggi ed è finita la partita purtroppo. La linea Giovanni Marzini. Alberto Zacchieroni soltanto sfiorato questo sogno. Mi sembra ancora incredibile che non abbiamo sovrato i turni. C'è poco da dire. Noi abbiamo creato un'infinità di palle e golle e loro, con un tiro in porta, sono riusciti a superare il turno. Vuole anche fortuna. Oggi, francamente, non l'abbiamo avuta perché più che contro l'Ajax, mi sembra che aveva giocato contro Van der Sar, il loro portiere, perché ha fatto delle cose incredibili. E' vero che fa parte anche, lui fa parte della loro squadra, è un pezzo forte della loro squadra, però oggi, francamente, l'Ajax vero sembravamo noi. Ma mi pare che questi applausi da parte dei 42.000 del Triuli dicano sufficienza grazie a questa squadra, per questa prima squadra. Più di così, sembrava una grandissima squadra. Quella vista questa sera sembrava veramente una grandissima squadra. Complimenti i miei ragazzi, ma c'è il rammarico che meritavamo decisamente, nelle due partite, di superare il turno, perché noi abbiamo giocato per 90 minuti contro i loro 45 minuti della gara di andata. A te la linea, Carlo. Grazie a Giovanni Marzini e chiudiamo soltanto dicendo, anzi associandoci anche noi, dicendo una cosa. Grazie Udine, grazie Udinese. È tutto dallo Stadio Friuli. Grazie. 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 Grazie.